Campo con il numero uno, seguiamo quest'azione della Folgore insistita con Carovana che si imbatte in mezzo al nucleo di difensori, attenzione la prima conclusione verso la porta che resiste alla carica, poi d'esterno prova a servire ancora Scappini, troppo lungo il pallone, vantaggio che farà in mezzo per Rustico che si sta nel pallone sul sinistro, Rustico il pallone ci ha battato. Intanto c'è Scappini che rientra, riguadagna il terreno di gioco, parte lo spiovente, il pallone dentro che rimbalza, grande intervento spettacolare da parte di Giacomo Rustico. Non ha smesso mai un minuto, e adesso Fofanà, Fofanà, gol! E c'è il primo gol della Mazzarese con Mori Fofanà, la combinazione vincente. Mette il pallone oltre la linea del fallo laterale, ancora però la Folgore in avanti, grande bella girata da parte di Armato che prova ad entrare nel rigore, l'uscita di Rustico, calcio di rigore. La formazione della Folgore è tutto pronto, la rincorsa di Armato e il pallone in rete, uno a uno, cambia il punteggio al minuto numero 29. Il cartel calcio d'angolo, il pallone che spiova al centro, il tentativo di Giacalone di prima, a renarci dire ancora di più, una partita fin qui più che corretta. Il lancio in mezzo di Campisi per Fofanà che non ci arriva di un soffio, finisce qui il primo tempo, è uno a uno. Armato e Bono, di Campisi il pallone che spiova l'intervento, l'uscita da parte di Lario. Pallone morbido a cercare, quinci il colpo di testa, pallone che si alza sopra la traversa, uno contro uno con Scarpitta, mette in mezzo a due borne per Canovana che prova la spaccata in due tempi. Armato prova a portarsi via il pallone e a deludere l'intervento di Cancitano, il cross, il colpo di testa di Camara stoppato, il proprio compagno di squadra, Bono in rete. La Folgore ribalta il risultato con Vito Bono. Si presenta anche Seccum, parte il cross di Campisi, il pallone allontanato di testa da Rallo ma non a sufficienza, attenzione in peduglia, in mezzo ancora Rallo a giganteggiare. Poi svirgola Caracci ma ancora pallone di preda della Mazzarese, il tentativo da parte di Scappini, pesca nel braccio Montepiano. La rincorsa è di Campisi, il pallone che si impenna, proprio con Tamba che prova a caricare il destro da fuori, alla fine cede a Seccum che si sposta sul sinistro. Seccum, palla che viene seguita con lo sguardo e che finisce sul campo per destinazione. Servizio di Fofanà per Licari che prova dalla dentro per Rustico che non arriva di un soffio in anticipo su Ilario, puntare Tamba, si sposta il pallone su sinistro dentro per Carovana. Carovana, attenzione, va via Scarpita, Carovana mette il pallone sul palo, incredibile occasione. Folgore arriva adesso il fischio finale al Nino Baccara, Folgore, Dolce, Onorio, batte Mazzarese 2 a 1. Grazie a tutti.